è capitato a tutti almeno una volta nella vita di organizzare o di partecipare ad un viaggio di fede un po come i musulmani almeno una volta nella vita si recano alla mecca noi insomma da cattolici lo facciamo spesso abbiamo tantissime tantissime occasioni tantissimi posti da visitare uno di questi è proprio san giovanni rotondo ma ce ne sono tanti altri e per l'occasione abbiamo voluto conoscere una realtà nuova appena nata si può dire grazie al direttore che è venuto a trovarci il direttore dell'ente di formazione e lo faccio dire a lui marco del rosso grazie grazie a voi per benvenuto possibilità di questa mattina ripetiamo il nome marco del rosso l'ente di formazione al collection institute perfetto e allora hanno avuto questo sogno ce l'hanno ci stanno pensando da un paio d'anni finalmente si sta realizzando perché ormai è diventata concreta e noi ne vogliamo parlare il tema appunto viaggi turismo religioso viaggi di fede quelli cosiddetti pellegrinaggi ma con una marcia in più certo certo l'obiettivo della dell'azienda della della nostra realtà è quella di sviluppare e di promuovere il territorio tramite figure esperte nel turismo religioso perché ci siamo resi conto che nel fabbisogno turistico pugliese ma italiano in genere questa figura manca oppure questa figura non è molto specializzata quindi rendendoci conto di questa di questa problematica di questo fabbisogno reale abbiamo pensato di progettare questo corso di formazione questo corso di formazione è un corso di formazione riconosciuto dalla regione puglia la determina c'è stata conferita l'undici di ottobre dello scorso anno del 2019 è un corso di formazione appunto rivolto alle guide turistici guide turistiche accompagnatori turistici e permette loro di avere una un'istruzione una formazione tale da poter fare una un'esposizione completa ai pellegrini ma non solo i pellegrini diciamo il corso è rivolto a guide turistiche che possono fare formazione anche a chi non ha programmato quel viaggio turistico chi è lì in questo momento noi siamo qui oggi a San Giovanni Rotondo c'è tantissimo da dire San Giovanni Rotondo se noi due andiamo davanti alla basilica di San Giovanni io voglio una spiegazione della chiesa di San Giovanni Rotondo fatta per bene dal punto di vista religioso è vero ci sta anche insomma lo stupore davanti a una bella opera d'arte ci si sofferma così ad ammirarla però è bene anche essere insomma accompagnati ed è questo proprio che fa il corso questa funzione preparazione e assistenza quindi al turista molto spesso forse soprattutto oggi si tende a fare un po' il fai da te nei viaggi ed è diciamo bello per chi vuole fare l'avventura economico bello per chi vuole fare l'avventura però non sempre la cosa economica soddisfa pieno perché il viaggio appunto come abbiamo detto prima è anche una questione di esperienza di stupore nel vedere opere d'arte nel vedere luoghi di culto è un peccato che non ci si capisca nulla di queste di queste pietre vive che vediamo davanti a noi perché poi si torna a casa e si scopre che qualcosa non si è visto per evitare questo ci sono le persone adatte certo sono le nostre guide turistiche pugliesi che sono circa 1800 iscritte che hanno patentino conseguito presso la regione puglia iscritte all'albo delle guide turistiche regionali e allora diciamo il nostro obiettivo è formare loro dal punto di vista religioso perché loro sono già formati a 360 gradi andiamo a completare la loro formazione è una specificità questa che offrite ecco chi sono i destinatari del corso posso venire anch'io che sono una casalinga si può venire chiunque al corso però ovviamente va rispettata la legge regionale per quanto riguarda le guide turistiche e gli accompagnatori turistici ovviamente non ci si sostituisce la guida turistica è un corso che puoi fare per una questione di cultura personale però poi non puoi esercitare quel tipo di professione deve essere sempre rispettata il patentino regionale quindi rispettata la legge la guida turistica può mettere nei suoi servizi questo servizio in più rispetto a ciò che lui già fa è un valore aggiunto un altro valore aggiunto è che poi durante il corso se non mi sbaglio alla fine lo dicevamo prima fuori onda c'è la possibilità di recarsi in Serbia abbiamo pensato questo il corso dura 600 ore di queste 600 ore 340 ore sono ore di teoria scusami 360 ore sono ore di teoria teoria che verrà svolta da esperti del settore esperti in marketing per la redazione di piani turistici teologi, psicologi ci saranno lezioni di sicurezza sul lavoro emergenza antincendio perché molte volte le guide non sono esperte in quello emergenza di prima e pronto soccorso all'interno della visita ci sono queste specificità e ovviamente formazione su storia dell'arte, iconografia e altro poi ci sono 200 ore di stage presso tour operator pugliesi o comunque enti ecclesiastici pugliesi e poi abbiamo pensato avendo la sede di rappresentanza della nostra società in Serbia Belgrado abbiamo pensato di poter far completare questo percorso di studi a Belgrado Belgrado siamo molto legati alla chiesa cattolica di Belgrado al Monsignor Ocevar che è l'arcivescovo di Belgrado dell'arcivescovo cattolico di Belgrado e lui è anche molto vicino alla chiesa ortodossa quindi abbiamo pensato di fare una settimana, sono 40 ore, una settimana a Belgrado per far visitare i luoghi di culto e poter far realizzare questo stage presso le strutture serbe che hanno tantissimo da dire in Italia abbiamo tanta roba da dire però anche lì c'è tanta roba da vedere e da poter scoprire come novità è una sorta di gemellaggio dicevamo con questo paese perfetto in Italia dicevamo ce ne sono tantissime di bellezze da scoprire e nel dettaglio insomma aiutano queste figure avete anche un sito sul quale si possono poi reperire tantissime altre notizie si possono chiedere informazioni facciamo una presentazione sintetica il sito è www.hcinstitute.eu lo dico in italiano adesso lo mostriamo anche grazie alla nostra regia è questo qua il sito e nei corsi singoli si vanno a vedere tutte le nostre progettualità che contano anche altri tipi di percorsi formativi ecco qui ci sono le varie sezioni corsi singoli per chi fosse interessato e questa Marco anche è una bella opportunità oggi è un periodo storico forse un po' prolungato in cui manca lavoro per i giovani oltre ad essere un'idea è anche un'opportunità concreta io ho portato il programma presentato in Regione l'obiettivo dell'intervento l'iniziativa formativa è finalizzata ad agevolare l'inserimento lavorativo dei beneficiari nell'ottica di un effettivo fabbisogno professionale rilevato nell'ambito del sistema economico del territorio di riferimento quindi i ragazzi possono cogliere la palla al balzo possono formarsi in questo possono diversificarsi perché nelle attività lavorative odierne c'è il mercato saturo faccio un esempio sicurezza sul lavoro tutti quanti fanno sicurezza sul lavoro però se ci si forma e si dà quel quid in più al cliente offrendo un servizio in più tanto di guadagnato si può creare quella nicchia di clienti che servono per portare il pane a casa diciamocelo francamente diciamocelo francamente perché molti ragazzi hanno bisogno di lavorare e sulle 1800 guide in Puglia non so se tutte quante lavorano quindi avendo questa specializzazione in più possono sfruttarla per quanto riguarda il lavoro noi facciamo la nostra parte come interiformazione poi i ragazzi sta a mettere in pratica ciò che i nostri docenti insegnano è certo il bello è che per i giovani insomma ci hanno pensato dei giovani tu sei giovanissimo ci dicevi che è un team comunque è un team composto da prevalenza giovanile prevalenza giovanile e donne siamo gli unici abbiamo pochissimi maschietti in azienda sono tutte quante donne bene il fatto che oggi insomma si ami tantissimo viaggiare ha influito anche nella vostra decisione in questa decisione perché comunque si viaggia sono cambiate anche un po' le modalità di prenotazione di viaggio ci si adatta a qualsiasi mezzo a qualsiasi condizione facendo anche il fai da te come dicevamo prima come il fai da te noi viaggiamo tantissimo e ci siamo resi conto che stazioni, aeroporti, autostrade sono stracolme di gente che viaggiano perché essendoci tanta tanta offerta ovviamente i prezzi si sono un attimino abbassati c'è tanto fai da te quindi la gente si organizza un volo lo paga anche 40 euro si organizza va a visitare luoghi perché quando vai a visitare quel luogo non deve esserti spiegato quella chiesa che tu hai potuto ammirare o quel museo particolare o qualsiasi punto di interesse deve esserti spiegato in maniera consola magari risparmiato nell'andarci consumi qualcosina lì però almeno ritorni con qualcosa e si è ancora molto più soddisfatti perché si torna davvero con un bagagliaio nel viaggio si cresce più pieno c'è a proposito di questo visto che i tempi sono cambiati lo stiamo vedendo tutti ormai tutti hanno uno smartphone tra le mani anche e soprattutto quando si viaggia perché si scattano fotografie per un ricordo si cerca il posto più insomma quotato per andare a mangiare dove andare a dormire per risparmiare insomma molto molto usato questo strumento e può essere utile anche al diciamo a questa professione perché mi dicevi sempre dietro le quinte perché noi facciamo delle chiacchierate per conoscerci ci sarà un'app si diciamo che questo corso è tra virgolette propedeutico allo sviluppo di un software e quindi di un'applicazione per cellulari di entrambe le etnie diciamo così sia per iPhone che per Apple che per il sistema Android è un'applicazione che permette la visita turistica e permette la fruizione della visita turistica con un filtro impostato in precedenza in pochi minuti su tutto il territorio nazionale questo ovviamente ci stiamo lavorando perché non è soltanto uno sviluppo del software in sé o dell'applicativo in sé è lo sviluppo di una rete tale da poter inserire in questo database un numero di guide che abbiano queste competenze per tutto il territorio nazionale che possano essere disponibili in pochi minuti perché oggi si va di corsa oggigiorno si va di corsa io se voglio vedere un luogo di culto lo voglio vedere nell'immediatezza non posso vederlo non posso programmare abbiamo pensato a questa applicazione sia a chi ha programmato una visita turistica sia a chi si trova in quel luogo in quel momento peraltro io sono venuto qui avevo mezz'ora di tempo volevo andare ripeto alla basilica di Padre Pio volevo qualcuno in quel momento che me la spiegava quindi con questa applicazione chi ne fa richiesta viene geolocalizzato la guida turistica riceve una notifica se risponde a quelle caratteristiche che ovviamente lei ha già messo in pancia a tutto il sistema se risponde a quelle caratteristiche magari lingua inglese lingua francese lingua russa oppure la spiegazione deve essere fatta dal punto di vista religioso piuttosto che dal punto di vista storico artistico sono tutti i filtri che vengono impostati prima nel giro di pochi minuti la guida turistica arriva davanti all'utente e fa vedere quel luogo come non avrebbe visto il turista in quel momento il turista o l'avventore di quel momento e quindi insomma ottima idea ottime diciamo che ci stiamo lavorando è ancora in fase embrionale ma ci stiamo lavorando bene ci fa piacere insomma partecipare a questa gestazione almeno dandone notizia grazie grazie a te Marco tanti auguri e in bocca al lupo in questi casi per voi che siete giovani perdonami l'interruzione abbiamo i partner di questo progetto volevo ringraziare la Confguide Confcommercio di Bari Bat col presidente Pietro Palermo che ci sta dando una grande mano su questo tema qui volevo ringraziare la chiesa cattolica e ortodossa di Belgrado il Monsignor Rocevar Comune di Trani Ufficio Istruzione e Cultura Sport e Turismo assessorato alle culture del Comune di Trani sono tutte figure che a noi occorrono per dare un taglio e si lavora anche in rete e si lavora anche in rete non lavoriamo mai da soli lavoriamo sempre in equip sempre rispettando il territorio e sempre rispettando le istituzioni perfetto detto tutto? sì c'è tanto da dire c'è tanto da dire magari ci sarà l'occasione per ripresentarci ai nostri telespettatori che sono comunque la categoria tipica di questo tipo di viaggi no? e non solo perché insomma non si fa solo quello si allarga insomma un po' l'orizzonte grazie utilissima questa applicazione che nascerà tra poco utilissimo anche il sito che abbiamo visitato prima quindi potete tornarci su per reperire altre informazioni e comunque se decidete anche per iscrivervi buon lavoro grazie grazie buon lavoro a voi grazie a te grazie a te